Tecconò alle politiche economiche del governo dal Movimento 5 Stelle. Chi in questa situazione, proprio come Renzi, dice che bisogna mantenere i vincoli europei e che bisogna mantenere un certo rigore, sta praticamente dicendo ancora altra austerity, che vuol dire altre tasse, che vuol dire cambiare le vecchie tasse e farle diventare nuove. E non risparmia attacchi all'esecutivo La Lega.